Tornano in città gli studi giuridici. Non tutti sanno, infatti, che Arezzo già nel 1300 aveva una propria università che si era specializzata proprio in studi di natura giuridica. L'istituzione poi fu persa, ma da tre anni in città è arrivato un corso della Facoltà di Giurisprudenza dedicato agli studi giuridici, in particolare con due corsi. Uno con il curriculum Amministrazione, Sicurezza e Servizi del Territorio, l'altro Impresa, Ambiente e Sistemi Agroalimentari. Dal prossimo luglio usciranno da questi corsi i primi laureati. Le lezioni sono svolte da tutti i docenti di giurisprudenza di Siena, nella sede d'Atenuso dal Comune, la ex Caserma delle Culture, all'interno della Caserma Cadorna. Abbiamo due curricula, sono lauree triennali che poi consentono uno sbocco professionalizzante, ma non precludono poi di potersi specializzare in una laurea magistrale, e quindi prendere la laurea quinquennale in giurisprudenza. Questa sede è già aperta da alcuni anni, ha subito un ovvio stop per la pandemia. Sono già tanti gli studenti che vengono anche da tutta Italia. Sì, vengono da tutta Italia, vengono dal sud, vengono dalla provincia retina, ma noi ci auguriamo che vengano anche dalla stessa città di Arezzo, perché questa è una grande possibilità di rilancio per la città di Arezzo, visto che dal 1300 qui c'era lo studium iuris, e con questa ripresa si aspica un ritorno alla grande. Numerosi anche gli sbocchi professionali, ma anche formativi. Certo, come ha appena illustrato la collega Alisa Gualdani, il merito di questa offerta formativa è quello di avere un percorso immediatamente spendibile nel mondo del lavoro, soprattutto del nuovo curriculum di nuova attuazione.